Melanie C discografia Rock Me è il nuovo singolo Rock Me è il titolo del singolo di Melanie C L'ex Spice Girls La band tutta il femminile che nella seconda metà degli anni 90 Ha avuto un grande successo Pochi giorni fa vi avevo scritto della possibilità di un nuovo album per Mel C E ora vi confermo la notizia E' ormai ufficiale Rock Me è il titolo del singolo di Melanie C Che anticipa il nuovo album della cantante Pochi giorni fa avevo parlato di un misterioso teaser Che lasciava capire che a breve ci sarebbe stato un singolo Beh, non ci siamo sbagliati Sulla questione vi è ancora del mistero da risolvere Ma per ora si sa che Rock Me sarà disponibile il prossimo 24 giugno In Germania, Svizzera e Austria Il singolo Rock Me è stato anche scelto come il brano Dei campionati mondiali di calcio femminile Che si svolgeranno proprio in Germania la prossima estate Mel C, conosciuta da tutti i fan anche come Sporty Spice Ha pubblicato il suo ultimo album ben 4 anni fa Con il titolo di Stai Il ritorno di Mel C sulla scena musicale Avviene proprio mentre si vocifera di una reunion delle Spice Girls Chissà Forse la reunion è solo rimandata Oppure era solo un pretesto per lanciare I progetti solisti delle Spice Girls Grazie a tutti Grazie a tutti